Oggi qui a Castelluccio è bello incontrare tanti amici e farlo in occasione di un comizio di Antonio Delpriore, sindaco in carica e mi auguro prossimo sindaco, al quale ho pubblicamente riconosciuto, oltre delle capacità personali non indifferenti, non di poco conto, cioè il metodo col quale sapientemente è risposta ad ognuna delle accuse che i suoi detrattori politici in questo momento gli avevano rivolto, ma anche per quella che è la capacità amministrativa che ha dimostrato, non solo quindi la capacità di proporre ma anche quella capacità di intelligenza e di amministrare. Devo dire che Castelluccio è un paese che per la sua posizione può avere grandi opportunità sia nel rapporto con la città di Foggia ma ancora di più col sistema dei Monti Dauni. C'è tutto un importante dibattito sulla ristrutturazione di alcuni immobili qui che stanno diventando anche l'oggetto della campagna elettorale come l'ex cinema e quelle che sono poi le attività ordinarie che il comune deve porre. Un comune che è stato tra i migliori in termini di quantità di rifiuti riciclati e quindi tra quei comuni che beneficiano delle premialità regionali. Un comune sempre attento a intercettare i fondi comunitari, quindi che ha vinto diversi bandi in tante tematiche, dal sociale a quello che è il sistema della ristrutturazione della macchina comunale e quindi del municipio. Quindi tutte le condizioni per stare a fianco di un giovane che può esprimere ancora molto per questo territorio.